Cari amici ben ritrovati, venerdì 7 luglio 2023 tappa numero 7 del Tour de France Monte de Marsan Bordeaux di 170 km. Tappa abbastanza tranquilla nella quale i velocisti attendevano il finale caratterizzata da una fuga di due ciclisti ripresi negli ultimissimi chilometri. Vince per la terza volta in questo Tour Jasper Philipsen. Leggiamo ora la classifica di tappa. Primo con il tempo di 3 ore e 46 minuti e 28 secondi Jasper Philipsen. Secondo Mark Cavendish. Terzo Biniam Girmai. Quarto Luca Mozzato. Quinto Dylan Gronewegen. Leggiamo ora la classifica generale. Primo dopo 1242,1 km percorsi ed il tempo complessivo di 29 ore e 57 minuti e 12 secondi Jonas Wingard. seguito a 25 secondi da Taddei Pogacar, a 2 minuti e 34 secondi da Jay Indray, a 3 minuti e 14 secondi da Simon Yates e a 3 minuti e 30 secondi da Carlos Rodriguez Cano. prossima tappa domani Libourne-Limoge di 200,7 km. Bene amici, grazie per avermi seguito anche in questo video. Io vi do appuntamento a domani con l'ottava tappa a una mezz'ora e tre quarti del termine appunto della tappa. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo domani. Un saluto in bici da Lucoral.